E' stato arrestato a Porto Sant'Elpidio l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio di Rakeda Amri, trentenne tunisino ucciso con un coltello ieri sera sul lungomare di Civitanova. L'omicidio è avvenuto intorno alle 22.30, a pochi passi da locali e ristoranti, dove si è continuato a fare musica fino a tardanotte. Le forze dell'ordine hanno subito transennato l'area interessata e hanno iniziato le indagini sotto gli occhi di migliaia di persone ritrovando l'arma del delitto. Si sarebbe trattato di un regolamento di conti legato allo spaccio di sostanze stupefacenti. E' il secondo omicidio in dieci giorni in strada a Civitanova, il primo si è consumato a lungo corso Umberto I. E ad essere ucciso è stato Alica, 39enne di origine nigeriane, residente a San Severino. E' subito arrivato sul luogo dell'omicidio ieri sera il sindaco Ciarapica. Questa escalation di violenza va fermata, ha detto. Grazie. 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 Grazie.